Ciao a tutti, ho scoperto uno strumento per misurare la velocità di tutto il vostro sito contemporaneamente, ossia quando lo fai con Google Page Speed, vai a vedere l'altro video che avevo fatto, ti lascio il link, lo fai su una pagina alla volta, ma se tu vuoi testare la velocità di tutte le pagine del tuo sito contemporaneamente puoi farlo con questo tool che mi ha fatto conoscere Barbara, che saluto, ciao Barbara! Eccoci qua, questo è il sito, si chiama digitale.co.pagespeed, non devi far altro che inserire qui il tuo sito, quindi per esempio ideacity.wine, poi devi scegliere se misurare la versione mobile o la versione desktop, e una volta fatto aspetti un attimo perché ci vuole un po' di tempo, perché il tool vada a recuperare tutti gli indirizzi, tu tieni conto che quando fai questo lavoro con Google Page Speed Insight ci metti circa 40-50 secondi a pagina e quindi dagli tempo di scansionare tutte le pagine del tuo sito, però è uno strumento molto interessante e come vedi ti dà gli stessi dati che ti darebbe Page Speed, ma te li dà tutti insieme da tutte le pagine del tuo sito, quindi è veramente uno strumento che se stai analizzando la velocità del tuo sito ti permette di risparmiare tanto tempo. Infatti una volta che hai i risultati puoi cliccare sul bottone che c'è qui, che si chiama details, e non fa altro che andarti a recuperare, vedi la paginata di Page Speed, per darti i consigli. Quindi quello che potresti fare, adesso ti riscansiona, come vedi i dati non sono però allineati, ma perché? Perché in questo caso io gli avevo detto di controllarmi il punteggio da desktop e Google Page Speed ti dà prima il test da mobile, però se io vado su desktop vedi che sono allineati. A questo punto posso andare a vedere cosa mi suggerisce di fare Page Speed e questo è poi tutto il lavoro che dovresti fare se vuoi ottimizzare la velocità del tuo sito. Quindi ti va a dare dei consigli e ti consiglio di andare a vedere prima i pallini rossi, anzi i triangolini rossi, e poi di andare a vedere quelli gialli, perché le cose che sono prioritarie da fare appunto sono quelle indicate in rosso. Però questo ti dà una panoramica d'insieme del tuo sito e quindi delle pagine che vanno bene, che potresti anche tralasciare, e delle pagine dove ci potrebbe essere del lavoro da fare. Dato che lui ti dà il pallino verde dopo i 90, insomma ci sono delle pagine dove si possono ottimizzare delle cose e sono quelle che bisogna andare a controllare prima. Spero di averti dato un consiglio utile, grazie a Barbara per avermi segnalato questo fantastico tool e ci vediamo e ci sentiamo alla prossima. Ciao!